Sì ho recuperato, la condizione è quella che è, però l'importante è il piede a posto e non mi dà più grossi fastidi. Quindi ho fatto una settimana scorsa di lavoro a parte e adesso da lunedì mi alleno con la squadra. Scalpito, poi deciderà il mister, comunque io sono a disposizione, come sempre, mi metto a disposizione e poi le scelte aspettano a lui. Però l'importante secondo me è star bene, poi la condizione è normale che all'inizio uno fa un po' fatica. Anche se non è che sono stato fermo tanto, perché mi sono allenato parecchio in piscina, che non è lo stesso, però abbiamo cercato di fare un lavoro alternativo senza caricare il piede. Mentalmente infatti è tutto, l'importante è che sta bene la testa, quello è l'importante secondo me. La squadra secondo me ha sempre lottato e ce l'ha messa sempre tutta, però i risultati non ci hanno dato ragione. La speranza secondo me c'è sempre, anche perché fino a quando ci sono i punti a disposizione, voglio dire, bisogna lottare fino alla fine. Fin quando la matematica non dirà il contrario. L'ultima col Chievo hai preso gol all'ottantottesimo, quindi la partita era finita. Un insieme di cose secondo me, quando sei in queste situazioni, si ha la testa che fa tutto, cioè non è né fisico né mentale, è un insieme di cose secondo me. Adesso è un pensiero mio poi. Vediamo pure le altre quello che fanno, noi andiamo, appunto, noi pensiamo sicuramente a noi, a fare punti e ce la giochiamo. Non c'è, non ci sono alternative. Io non ci penso sinceramente, sicuramente ho due anni e mezzo di contratto, però sono concentrato su quest'anno, prima di tutto perché vorrei provare a dare qualcosa, insomma. Poi per il futuro c'è tempo per pensare. Fermo restando che ho due anni di contratto e sono contentissimo, due anni e mezzo. Io, il mister comunque che mi ha voluto qua, lo ringrazierò sempre, che mi ha riportato in Serie A dopo qualche anno. È normale che dispiace perché secondo me lui è una gran persona, però l'allenatore è il primo a pagare quando i risultati non arrivano, quindi c'è poco da fare. Le partite quando le vedi da fuori è un discorso, ti puoi fare un'idea, però vivere il gruppo, vivere la settimana e allenarsi magari con la squadra ti aiuta più a capire quali sono i problemi. Io sinceramente da fuori non sono riuscito a capire qual è stato il problema, soprattutto perché da quando era arrivato, lui fino a gennaio, lui e la squadra hanno fatto molto bene. Cristian per lui parla il curriculum, potrebbe ancora giocare secondo me, però è una persona sanguigna, uno vero e poi ha le sue idee, che secondo me è buone. Poi ho giocato contro tante volte, quindi siamo anche incontrati spesso sui campi, fa un po' effetto averlo come allenatore, però insomma è una piacevole sorpresa. Mi toccherà vincere un campionato, vorrei dire, non lo so, io quando arrivo in Serie A succede sempre qualcosa, pure a Bari ho fatto due partite e mi sono rotto il ginocchio. Sarà un destino, sarà che ne so. Purtroppo è andata così, ma io credo molto, cioè le cose sono fatalista io, cioè le cose dovevano andare così, secondo me dovevano andare così, perché poi magari c'è un periodo sicuramente più roseo. D'altronde venivo da due anni e mezzo dove ho giocato tante partite e non mi sono mai fermato, quindi prima o poi secondo me il fisico da qualche parte cede. È normale. Magari metta la firma a farti due anni e mezzo come quelli passati, senza avere infortuni e niente. Quindi adesso penso solo al futuro che verrà, quello che è passato è stato. Non lo so, ti dico la verità, io uno le cose deve viverle, cioè per dire ti senti pronto o no. Io posso avere un pensiero, poi magari vado in campo e non è così. Sicuramente portavo e porterò entusiasmo, voglia, grinta, carattere, cioè quello che secondo me è sempre stato il mio credo calcistico. Poi il gol lo puoi fare secondo me in Serie A, in Serie B, in Serie C se ti capita l'occasione, l'opportunità. Però sicuramente le categorie ci sono apposte e uno deve avere anche magari un periodo di ambientamento. Sono contento che c'è questa fiducia e spero di ricambiarla. Alla fine per me non è un problema, anzi a me le responsabilità mi hanno sempre, diciamo, responsabilizzato. Quando uno mi dà responsabilità ho sempre fatto il mio, quando uno mi considera poco sono uno che non mi piace essere considerato poco. Il mister gioca comunque 4-3-3, è normale che gli interpreti sono diversi a secondo delle caratteristiche. Vkusic è un giocatore un po' più di movimento, è una prima punta come caratteristica, quindi a me mi piace comunque stare in area. Però no, i movimenti sono sempre quelli, il 4-3-3 è quello, i movimenti, gli schemi sono sempre gli stessi, insomma. Il calcio si inventa poco, ormai c'è stato tutto scoperto, no? No, ma sicuramente lui va servito in un modo, io vado servito in un altro, per carità, quello sì. Però ma lì sta l'intelletto. Esatto, vabbè, i terzini comunque lui vuole che vanno comunque sul fondo, sì sì, no, ma le idee ci stanno. Io vedevo anche lo sviluppo che facevano, i terzini arrivano sempre. Cioè, è un giocatore di esperienza, gente di categoria, forte, però sono uomini come noi, insomma. Ma qua si sta benissimo, è una piazza calda che comunque, come piace a me. Perché lì Grosseto era un'isola felice, non che qua si sta male, però lì sembra quasi di andare al teatro. Non è una cosa brutta, per certe cose, però sicuramente qua si sta bene, io mi sono ambientato benissimo, la città la giro tranquilla. C'è gente allo stadio, c'è passione. Poi dopo il campionato dell'anno scorso, insomma, è tornato l'entusiasmo. Io qua ero venuto anche quando, l'ultimo anno che siete retrocessi, dalla B alla C, c'era uno stadio deserto. E da lì, cioè, ne stava fatta di strada, insomma, per arrivare fino ad oggi. Questa è una cosa che a me comunque fa onore, perché si vede che qualcosina ho fatto, insomma, anche se in Serie B. Però ripeto, adesso io vorrei giocarmi queste nuove partite in Serie A, perché comunque la Serie A è la Serie A. E se si può cercare di mantenerla, io ce la metterò tutta. Io come la squadra, io da solo faccio poco, però noi siamo concentrati su quello che è adesso la Serie A. Poi il fatto di essere considerato comunque, anche per un eventuale campionato in B, un giocatore importante, questo mi fa piacere. Però vorrei diventare importante anche in Serie A, sinceramente. Ancora tempo di diventare capo cannoniere del pescato, per questo, non c'è tutta questa fretta. Aspetta, la telecamera. No, no, qui tutto. Stasera, continuo.